Comincia oggi a Firenze la raccolta di firme per i referendum abrogativi della legge elettorale. La raccolta è iniziata a livello nazionale a partire dal 9 di questo mese. A Firenze iniziamo oggi e iniziamo proprio per dire no a questa riforma che entrerà in vigore e si ricorda a luglio, soltanto a luglio, e che è una riforma della precedente legge elettorale, ricordiamolo, Porcellum, dichiarata incostituzionale dalla consulta per sostanzialmente due elementi fondamentali che erano le liste bloccate e il premio di maggioranza. L'Italicum le ripropone identicamente, sebbene con un artificio dei capilista bloccati, ma in ogni caso due terzi. dei senatori e dei deputati, perché il Senato, come sappiamo, è parzialmente riformato dalla modifica costituzionale, dice due terzi dei parlamentari saranno nominati. In più c'è ancora il premio di maggioranza e c'è una cosa ancora peggiore che è il ballottaggio. Per cui se nessuno delle forze politiche raggiunge il 40% si va al ballottaggio e quindi significa che anche una forza politica che abbia raggiunto il 20% può prendere il 54% del premio. per cui vuol dire praticamente assediare il Parlamento.